bella a tutti i ragazzi e bentornati in questo nuovo video sono a mano del 66 e oggi vi farò vedere cioè apriremo insieme cinque bustine di adrenalin partiamo con la prima speriamo ok piramonte il nome questo ce l'ho poi mertens ce l'ho giriamo prima il tento gran pista vecino ce l'ho difensore difensore fazio non ce l'ho non male jacoponi non ce l'ho poi vediamo questo cos'è bernardeschi non ce l'ho partiamo col secondo allora vediamo questo allora meno male che speriamo che sia fortunato ci sono due dove c'è ronaldo mi screener no doppione due doppioni di screener peccato comunque pazzini nuovo acquisto di idoli non ce l'ho perché a giorni poi ragù su del cagliari mirante miranti e della roma non ce l'ho ti immagino da noi cito play con il difensore miranti ok andiamo con questo andiamo con questo via dai cos'è questo che cos'è mi torno a parte fuori daniele bessa credo che non ce l'ho biraschi nicolo barella non ce l'ho è un perur dell'eserone non ce l'ho zapata mi ma tu zapata del ceno e poi cristiano ronaldo don't play don't play e cristiano ronaldo siiii siiii non ci posso credere in uno spacchettamento normale no mambo con la roba chiaro non ce l'ho per cazzo idolo corampano non ce l'ho per cazzo idolo non ce l'ho 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 giampetro ce l'ho zaza ce l'ho c'è cristiano ronaldo top player si può non ce l'ho conti non ce l'ho silvio pronto non ce l'ho spero che questo video vi sia piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale per un po' di bel video ciao ragazzi